ho appena finito di leggere un romanzo meraviglioso che ho divorato anche se spesse volte ho dovuto fermarmi con gli occhi inondati di lacrime senza poter riuscire ad andare avanti perché è un libro emotivamente devastante potentissimo sicuramente molti di voi lo hanno già letto sto parlando di ogni mattina a genin di susana bulawa che è una scrittrice che viene da una famiglia palestinese che si è messa in fuga dopo la guerra dei sei giorni ed è cresciuta in un orfanotrofio di gerusalemme poi da adolescente è andata a vivere in america e da lì insomma ha avuto una bellissima carriera ha scritto molti saggi sulla palestina e questo romanzo è un romanzo quindi la storia è una storia familiare di tre generazioni che ha inventata ma il contesto storico è assolutamente realistico il libro inizia nel 1941 e arriva nel 2002 e leggendolo capisci davvero la storia della palestina dalla nakba del 48 il massacro di sabra e shatila la guerra dei sei giorni la guerra con il libano ci sono veramente tante tante cose e soprattutto si capisce che cosa vuol dire vivere sotto occupazione quindi sopravvivere non è un vivere e nonostante questo riuscire ad amare ad avere degli amici è una storia potentissima che ti prende che ti con la sua scrittura così poetica ma essenziale essenzialmente poetica totalmente priva di retorica e la cosa che mi ha davvero impressionato di più è questa anche chiamiamola compassione chiamiamola empatia nei confronti del nemico dell'oppressore quindi di israele che benché abbia commesso i peggiori crimini davvero delle cose insomma il libro da questo punto di vista non risparmia nulla è davvero qualcosa di che è un pugno nel cuore è qualcosa è un orrore è un orrore quando vedi quello quello che insomma sono riusciti a commettere ma nonostante questo non c'è mai un giudizio una cosa una presa di posizione anzi c'è sempre un tentativo di mettersi anche nei panni dell'altro di provare a capirne le ragioni il dolore di capire che in fondo siamo in qualche modo un po tutti vittime credo ci sia stato bisogno di un grandissimo sforzo anche da parte della della scrittrice per fare questa immedesimazione per provare appunto questa empatia ma proprio per questo il libro è ancora più potente proprio perché non fa un jacuzzi non non si mette mai nella posizione di dire io ho ragione lui ha torto racconta i fatti e i fatti sono di una potenza travolgente la potenza nuda cruda veritiera e infatti penso che questo sia un libro che dovrebbe essere proprio un testo scolastico cari insegnanti consigliatelo anche come lettura estiva ai ragazzi anche se credo che in questo momento storico i ragazzi gli studenti siano quelli assolutamente più lucidi più coraggiosi anche nel denunciare questo genocidio lo vediamo anche con le manifestazioni in università nelle piazze siete fortissimi ragazzi infatti io penso che questo sia proprio un libro che dobbiamo dobbiamo debbano leggere gli adulti gli insegnanti giornalisti molinari parezzo mentana leggete leggetelo leggetelo studiate studiate la storia vera non quella della propaganda occidentale israeliana che tuttora continua e ti fa proprio capire anche come in realtà la storia si ripeta uguale e peggiore a se stessa come questa propaganda ci sia sempre stata come si sia sempre tentato di far passare israele come vittima di giustificare tutti i suoi gesti più efferati di nasconderli di negarli in questo in tutto questo questa devastazione questo orrore questa questo dolore che in qualche modo comunque c'è niente a questo senso di impotenza io credo che adesso per la prima volta qualcosa stia cambiando perché grazie ai social a quello che le persone davvero che stanno vivendo lì il genocidio i crimini tutte queste queste carneficine ce le stanno raccontando i giornalisti ma anche le persone comuni e noi tutti stiamo vedendo questo e noi siamo il popolo quindi ci sentiamo impotenti perché il potere ancora è dalla parte dell'oppressore ma la nostra voce si sta facendo sempre più più forte sempre sta diventando un grido e e arriverà un momento in cui non si potrà più far finta di non sentirlo e io sono sicura che arriverà un momento in cui finalmente le cose davvero cambieranno e questo popolo meraviglioso il popolo palestinese sarà finalmente libero e libero di esprimere tutto il suo potenziale tutto il suo amore tutta la sua resilienza e tutto quello che ha dovuto patire subire in tutti questi anni io lo spero davvero con tutto il mio cuore e quindi non smettiamo di parlare di raccontare anche se siamo piccole voci anche se sembra che nessuno ci ascolti ma credo che stiamo diventando molto molto fastidiosi e e la palestina prima o poi sarà libera ogni mattina geni grazie a tutti grazie a tutti